Io tra i ricordi più vivi che ho, e di solito insomma quelli che tu vivi in adolescenza, penso che siano quelli che ti rimangono più impressi, è stata la famosa partita Italia-Brasile dell'82, che me la ricordo ancora come l'ho vissuta, e quindi trovarmi qua e potermi giocare una partita col Brasile per me è una cosa molto grande, molto bella. È una partita che ha un grande fascino perché racchiude la storia del calcio, e il pensare che per noi italiani, chiaramente Italia-Brasile è sempre una partita incredibile, di un fascino incredibile, che ha della grande storia, e adesso viverla anche come calcio femminile è una cosa che mi piace molto, e non è neanche un caso che, diciamo questa è la terza partita del Girone, fatta anche, non so, è il caso, fatta anche in un orario particolare in Italia, e credo che questa partita unirà tanto. Abbiamo giocato due partite veramente impegnative, sia da un punto di vista fisico che mentale, la partita con la Giamaica è stata una partita molto impegnativa, sia dal punto di vista fisico ma anche mentale, e quindi ancora credo ci siano un po' di scorie, di stanchezza, e questo credo che sia normale, le ragazze sono motivate perché credo che, come per me, giocare da allenatrice una partita così, penso che sia il massimo, ci farà capire a che punto siamo nel nostro percorso di crescita, nel senso che incontriamo una squadra molto forte, con grande esperienza, con giocatrici veramente di grande esperienza e di grande qualità, e quindi è un po' una partita che ci pesa, ci dice a che punto siamo.